Le fiabe hanno da sempre avuto un ruolo fondamentale nell'educazione dei bambini, non solo come un mezzo di intrattenimento, ma anche come uno strumento per trasmettere valori morali e insegnamenti importanti. Uno dei temi più ricorrenti nelle fiabe per bambini è l'amore, che viene presentato in diverse forme e contesti per insegnare ai piccoli lettori o ascoltatori importanti lezioni di vita. Nelle fiabe per bambini l'amore viene spesso rappresentato attraverso una serie di relazioni e situazioni che sono facilmente comprensibili per i più piccoli. Alcune delle modalità più comuni includono l'amore familiare come in Hansel e Gretel, l'amore romantico come cenerentola o nella bella addormentata, o l'amore amicale come quello nel Re Leone e in Toy Story, ed infine, ma non meno importante, l'amore per la natura e per gli animali, in fiabe come bambi e come il libro nella giungla. La scelta della forma d'amore da mostrare ai bambini nelle fiabe dipende da diversi fattori, tra cui l'età dei bambini e i valori culturali e sociali che si desidera trasmettere. Tuttavia ci sono alcune caratteristiche comuni che rendono l'amore nelle fiabe particolarmente efficace, caratteristiche quali semplicità e purezza, il senso di giustizia e gli esempi positivi da fornire ai più piccoli. Il messaggio principale trasmesso attraverso il tema dell'amore nelle fiabe per bambini è che l'amore è una forza positiva e potente che può superare ogni tipo di difficoltà e portare alla felicità. Questo messaggio viene veicolato attraverso diverse lezioni chiave, come l'amore che supera le avversità, l'amore che è inclusivo e universale verso tutti, il vero amore che è disinteressato ed è sempre generoso, è il potere redentore dell'amore. Il tema dell'amore nelle fiabe per bambini è uno strumento educativo potente che aiuta i più piccoli a comprendere il valore e l'importanza dell'amore in tutte le sue forme. Attraverso storie semplici ma profonde le fiabe trasmettono messaggi di inclusività, generosità e forza interiore. Questi insegnamenti non solo intrattengono i bambini ma li aiutano anche a sviluppare un senso morale e a capire l'importanza delle relazioni positive nella loro vita. Il tema dell'amore romantico nella letteratura infantile riveste un'importanza fondamentale per la crescita e l'educazione sentimentale dei bambini. Fin dalla tenerità questi racconti e queste storie influenzano profondamente la percezione delle relazioni e dei sentimenti dei giovani lettori. Attraverso la lettura i bambini apprendono non solo il concetto di amore romantico ma anche le dinamiche, i valori e i comportamenti a esse associati. Le fiabe possono offrire modelli positivi di amore basati sul rispetto, comprensione, empatia e reciprocità, dei valori essenziali per la costruzione di relazioni future equilibrate e soddisfacenti. Questo topos letterario ha anche un ruolo significativo nello sviluppo dell'intelligenza emotiva. Le storie aiutano i giovani lettori a riconoscere e comprendere le proprie emozioni. Attraverso l'identificazione con i personaggi e le loro esperienze, i bambini possono imparare a gestire i propri sentimenti in modo sano. Attraverso racconti che promuovono valori positivi, sfidano stereotipi e offrono modelli diversificati di relazione, i bambini imparano a comprendere e apprezzare la complessità dell'amore. Questo non solo li prepara alle future relazioni romantiche, ma contribuisce anche alla loro formazione come individui empatici e consapevoli. Dal 1900 ad oggi, il modello di amore romantico nella letteratura per bambini è cambiato, riflettendo i mutamenti culturali e sociali. All'inizio del XX secolo le storie presentavano un amore idealizzato e fiabbesco, con ruoli di genere tradizionali. Negli anni 50 e 60 l'attenzione si è spostata verso le emozioni e la crescita personale, come nel Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery. Negli anni 70 e 80, influenzata dai movimenti per i diritti civili e l'emancipazione femminile, la letteratura mostra amori più diversificati e personaggi femminili molto più attivi. Dagli anni 90 le storie d'amore diventano più inclusive e realistiche, rappresentando una vasta gamma di relazioni e identità, fino all'era contemporanea, che celebra la diversità, vari orientamenti sessuali e identità di genere, come in tango a due, di Parnell e Richardson. In questo video analizzeremo il topos dell'amore romantico in fiabbe scritta in epoche diverse, evidenziando le differenze e i messaggi morali. La bella addormentata nel bosco enfatizza la costanza dell'amore vero, che va oltre il destino avverso. La sirenetta mostra i sacrifici d'amore e il rischio di perdere la propria identità. La bella e la bestia insegna a guardare oltre le apparenze, mentre Aladdin e Cenerentola dimostrano che l'amore supera le barriere sociali, promuovendo uguaglianza e merito personale. La bella addormentata nel bosco è una fiaba che ha affascinato generazioni di lettori e spettatori, con la sua combinazione di magia, romanticismo e temi universali. È una delle storie più amate e conosciute della letteratura mondiale. Questa narrazione non solo intrattiene, ma offre anche una profonda riflessione su temi come il destino, il vero amore e la perseveranza. L'amore che sfida il destino e dimostra di essere paziente e costante, capace di superare ogni ostacolo, è il cuore pulsante di questa storia. La fiaba antesignana è da ricondurre a Gian Battista Basile e le sue origini risalgono a tradizioni orali e letterarie antiche. La versione più famosa è quella di Charles Perrault, scritta nel 1697, seguita da una versione dei fratelli Grimm nel XIX secolo. Tuttavia, la versione più conosciuta oggi è probabilmente quella del film d'animazione della Disney del 1959. La storia della bella addormentata nel bosco ruota attorno a una giovane principessa di nome Aurora, che viene maledetta da una fata malvagia di nome Malefica. Al suo battesimo, Malefica profetizza che Aurora si pungerà con un fuso prima del tramonto del suo sedicesimo compleanno e morirà. Tuttavia, una delle fate buone, che non aveva ancora fatto il suo dono, modifica la maledizione. Aurora non morirà, ma cadrà in un sonno profondo da cui si risveglierà solo con un bacio di vero amore. Per proteggere Aurora, il re e la regina ordinano di distruggere tutti i fusi nel regno e affidano la principessa alle cure di tre fate buone, Flora, Fauna e Serenella, che la crescono in segreto in una casetta nel bosco. Nonostante le precauzioni, il destino si compie e Aurora, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, si punge con un fuso e cade in un sonno profondo. Il principe Filippo, innamorato di Aurora, affronta numerosi pericoli, tra cui un drago sputafuoco per raggiungere la principessa. Alla fine riesce a darle il bacio di vero amore e rompe la maledizione risvegliando Aurora. La storia si conclude con il matrimonio dei due e il classico e vissero felici e contenti. L'amore, nel contesto della bella addormentata nel bosco, è rappresentato come una forza trascendente, capace di sfidare e superare le barriere imposte dal destino. Infatti, la determinazione del principe e la sua volontà di combattere per la sua amata rappresentano la forza dell'amore che non si arrende mai. La fiaba enfatizza anche la pazienza e la costanza, come qualità essenziali dell'amore vero. Il lungo sonno e lo stato immutabile della principessa simboleggiano la sospensione del tempo in attesa dell'amore giusto che la risvegli. Proprio per questo, il bacio finale simboleggia come l'amore paziente e costante sia capace di trascendere il tempo e rompere le catene del destino. Uno degli aspetti più toccanti della fiaba è la rappresentazione dell'avversità che l'amore deve affrontare e superare. Ogni ostacolo posto da malefica rappresenta una sfida alla determinazione del principe. Il successo del principe Filippo nel superare queste sfide è una potente metafora della capacità dell'amore di trionfare sulle avversità. La sua vittoria non è solo fisica ma anche morale, dimostrando che l'amore vero è invincibile di fronte alle difficoltà. Un altro tema importante nella fiaba è la redenzione attraverso l'amore. La maledizione di malefica rappresenta non solo il destino ma anche le forze del male che cercano di distruggere la felicità e l'amore. Questo tema della redenzione è presente in molte fiabe e storie dove l'amore ha il potere di trasformare e salvare. Il risveglio di Aurora non è solo un ritorno alla vita ma una rinascita, un nuovo inizio che rappresenta la vittoria definitiva dell'amore sul male e sul destino avverso. La bella addormentata nel bosco è molto più di una semplice fiaba per bambini. È una riflessione profonda sulla natura del destino, sul potere dell'amore vero e sulla capacità di questo amore di essere paziente e costante di fronte a tutte le avversità. Attraverso i simboli e le metafore della storia apprendiamo che l'amore è una forza trascendente che può superare ogni ostacolo e cambiare il corso del destino. Questo messaggio universale rende la bella addormentata nel bosco una storia eterna, capace di parlare ai cuori di tutte le generazioni. La bellezza del cuento di hadas reside precisamente in sua universalità. Las lezioni sobre l'amore, la pazienza e la lucha contro l'adversità sono relevanti per tutte le edate e le culture. La storia nos ricorda che a pesar dei rischi e le difficoltà, il amore vero è una forza potente e invenzione, capace di superare qualche ostacolo e conduce a la redenzione e una felicità duradera. In conclusione, la bella dormiente segue siendo una fuente di inspirazione e reflexione, un homenaggio eterno al poder del amore vero che desafia al destino e supera tutte le adversità. La petite sirène è un conto di Ernst Christiana Andersen, pubblicato per la prima volta in 1837. L'histoire comincia in un roiame sous marron dove vive una jeune sirène con la sua famiglia royale. La petite sirène è fascinata per le ricci del Mondumont che sa grandmere lui raconte. Selon la tradizione, le sirène può montare a la superficie per la prima volta a l'âge di 15 anni. A son 15 anniversario, la petite sirène monta enfant a la superficie e découvre le Mondumont. Elle è particolaremente captivata per un navire somptueux e per le pranzo che il transporte. Sì, una tempesta violenta frappe il navio, lo facendo chavirer. La petite sirène sauve le pranzo di la noyade e lo ramène a la plage. Epuisé, elle resta caché pendant qu'une jeune femme trouve le pranzo e l'aide a se rétablir. Bien que le pranzo ne voit jamais la petite sirène, elle tombe éperdument amoreuse de lui. De retour dans son roiame sous marron, la petite sirène ne peut oublier le pranzo, élément des humains. Elle demande à sa grammaire si les humains vivent pour toujours. La grammaire lui explique que les humains ont une vie plus courte trai le sirène, mais qu'il possède une âme mortelle. Désormais, la petite sirène aspire non seulement à être avec le pranzo, mais aussi à obtenir une âme mortelle. Résolue à devenir humaine, la petite sirène se tourne vers la sorcière de mer. La sorcière accepte de l'aider, mais a un prix élevé. Elle lui donnera une potion pour obtenir des jambes humaines, en échange de sa voix. De plus, la sorcière l'avertit que si le pranzo n'est pas amoureux d'elle et ne l'épouse pas, elle mourra et se transformera en écume de mer. La petite sirène, malgré les risques, accepte le pacte. Après avoir bu la potion, la petite sirène ressent en douleur insupportable, alors que sa queue se transforme en jambe. Elle est trouvée par le pranzo sur la plage et amenée au château. Bien qu'elle ait perdu sa voix, la petite sirène dévient la campagne du pranzo, le charmant par sa grâce et sa beauté. Cependant, le pranzo ne la considère que comme une amie chère et lui confie son amour pour la jeune femme qu'il croit être sa sauveteuse. Le pranzo décide finalement d'épouser cette jeune femme. Le mariage est célèbre en grande pompe et la petite sirène est dévastée. Elle sait que sa mort est proche, n'ayant pas réussi à gagner l'amour du pranzo. Ses sœurs, pour la sauver, concluent un pacte avec la sorcière de mer et changer leurs cheveux contre un dague magique. Si la petite sirène tue le pranzo et féculer son sang sur ce pied, elle reviendra à une sirène et pourra vivre. Cependant, la petite sirène ne peut se résoudre à trouver le pranzo. Aimer le pranzo signifie pour elle souhaiter son bonheur, même si cela signifie sa propre destruction. A l'aube, elle se jette dans la mer, prête à se dissoudre en écume. Au lieu de disparaître complètement, elle se transforme en esprit de l'air, devenant une fille de l'air. La petite sirène accepte son nouveau destin et commence sa vie comme esprit de l'air, espérant un jour obtenir l'immortalité. La sirène esplora profondément le thème de l'amour romantique, intrecciandolo avec les concepts de sacrifice et compromis. La histoire présente une vision complessa et spesso dolorosa de l'amour, caractérisée par actes de rinunce et sofférance personale pour le bien de l'amateur. Un des principales sacrifices est la rinunce à la voix. La sirène, ennamorée, se rivolge à la strega de l'air pour obtenir gambe humaine, mais doit cedere la sua voce, simbolo della sua identità e capacità di esprimersi. Inoltre, subisce un dolore fisico costante. Ciò simbolizza il prezzo dell'amore e il sacrificio che è disposta a sopportare per stare con il principe. La sirène abbandona anche il suo mondo sottomarino e la famiglia per vivere sulla terraferma, un sacrificio totale delle sue radici e della sua identità. Quando il principe decide di sposare un'altra donna, le sorelle della sirène le offrono un pugnale per ucciderla e salvarsi, ma lei rifiuta, preferendo morire piuttosto che fare del male all'uomo che ama, simbolo dell'amore puro e disinteressato, che antepone la felicità dell'amato al proprio benessere. La fiaba rappresenta anche l'amore come compromesso. La sirnetta sceglie tra la sua voce e la possibilità di avere gambe umane, accettando la perdita di una parte fondamentale di se stessa. Il compromesso con la strega del male sia letterale che simbolico, evidenziando le dure condizioni che la sirnetta deve accettare per avere una possibilità con il principe. La sua incapacità di comunicare crea tra di loro una barriera, mostrando come l'amore non corrisposto possa essere limitato dalla mancanza di comunicazione e comprensione. Andersen utilizza quindi il tema dell'amore romantico per esplorare la profondità del sacrificio e del compromesso, mostrando come il vero amore spesso richiede un prezzo alto, ma allo stesso tempo offre una bellezza e una nobiltà che trascendono la sofferenza. La trasformazione finale della sirnetta in spirito dell'aria offre una visione di speranza e redenzione, suggerendo che il vero amore, anche se non è corrisposto, è nobile e può portare una forma superiore di esistenza. La sirnetta offre quindi una lezione profonda sull'amore e sui suoi molteplici aspetti, ed è fondamentale per lo sviluppo emotivo dei bambini. Si sottolinea il rispetto per la libertà e per l'autonomia dell'altro. La sirnetta accetta la decisione del principe di sposare un'altra donna senza interferire, insegnando che il vero amore rispetta le decisioni dell'altra persona, anche se ciò causa sofferenza. Questo amore non cerca il controllo, ma è guidato dal desiderio genuino di vedere l'altro felice. La storia rappresenta anche un percorso di crescita personale. Il sacrificio finale della sirnetta e la sua trasformazione in spirito dell'aria simboleggiano la crescita interiore, attraverso l'amore disinteressato, insegnando ai bambini che le esperienze dolorose possono portare a una maturazione emotiva. La fiabba incoraggia ad affrontare le difficoltà con coraggio e resilienza. La sirnetta promuove infine la gentilezza e l'empatia. La protagonista mostra empatia verso il principe e agisce con gentilezza in ogni situazione, insegnando ai bambini a considerare sempre i sentimenti altrui come validi. La favola della bella e la bestia, nelle sue varie versioni e adattamenti, è una storia che ha catturato l'immaginazione del pubblico per secoli. Al centro della narrazione vi è un tema universale e potente, l'amore che trascende l'apparenza. La bestia nel suo aspetto mostruoso rappresenta immediatamente un allontanamento dagli standard di bellezza tradizionali e accettati. La figura della bestia rappresenta un doppio livello di significato. Da un lato la sua apparenza mostruosa riflette il giudizio immediato e superficiale della società. Dall'altro la sua vera natura umana si rivela attraverso le sue azioni e il suo carattere. La bestia è vittima di una maledizione che lo ha trasformato in un mostro, una punizione per la sua arroganza e per la sua mancanza di empatia. Questa trasformazione fisica serve come una potente metafora della condizione umana. Spesso, infatti, ciò che vediamo in superficie non riflette la vera essenza di una persona. L'incontro con Belle rappresenta un punto di svolta nella vita della bestia. Belle è diversa da chiunque altro e li abbia mai incontrato. Lei ha infatti la capacità di guardare oltre le apparenze. Sebbene inizialmente spaventata dalla sua presenza, Belle gradualmente scopre la gentilezza e la vulnerabilità della sbestia. La protagonista è caratterizzata non solo dalla sua bellezza esteriore, ma soprattutto dalla sua bellezza interiore. A differenza degli altri personaggi del villaggio, infatti, Belle non si lascia ingannare dalle apparenze. Il suo stesso nome, che vuol dire bella, è simbolico. Uno degli atti più significativi che dimostrano la bellezza interiore di Belle è la sua decisione di prendere il posto del padre come prigioniera nel castello della bestia. Questa scelta è mossa dall'amore e dal senso di responsabilità verso il padre, e rappresenta un atto di grande coraggio e sacrificio. Belle accetta volontariamente il suo destino, mostrando una forza d'animo e una generosità che vanno oltre il comune. La fiducia La fiducia tra la belle e la bestia si costruisce gradualmente attraverso piccoli gesti di gentilezza e momenti di condivisione. Ad esempio, quando Belle scopre che la bestia è disposta a lasciarla andare per permettergli di prendersi cura del padre malato, oppure quando Belle cura le ferite della bestia dopo l'attacco dei lupi. La favola culmina con la rottura dell'incantesimo che aveva trasformato il principe in una bestia. Questo momento simbolico rappresenta il trionfo dell'amore che vede oltre l'apparenza. L'amore di Belle per la bestia, che si è sviluppato indipendentemente dal suo aspetto, è ciò che spezza quella maledizione. La trasformazione della bestia in un bellissimo principe non è solo una ricompensa estetica, ma una manifestazione visibile della trasformazione interiore che entrambi i personaggi hanno vissuto. La rosa incantata è un simbolo potente nella favola. Ogni pedalo che cade segna il passale del tempo e la progressiva diminuzione delle possibilità della bestia di spezzare l'incantesimo. La rosa rappresenta non solo la bellezza effimera e la fragilità del tempo, ma anche la speranza e la possibilità di redenzione. Man mano che la storia avanza, la rosa diventa un segnale visivo della crescente urgenza per la bestia di trovare l'amore vero. La fiabba celebra l'amore come forza suprema e redentrice. La scena della trasformazione non solo porta gioia ai protagonisti, ma anche agli spettatori, offrendo una chiusura emotivamente soddisfacente e piena di speranza. L'unione di belle e del principe indica l'armonia raggiunta attraverso l'accettazione e la comprensione reciproca. Il loro amore, che ha superato le sfide dell'apparenza e delle avversità, rappresenta un ideale a cui aspirare. La favola con il suo lieto fine ci ricorda che il vero amore è in grado di vedere la bellezza oltre la superficie e che, in ultima analisi, è l'amore stesso che porta alla vera felicità e alla trasformazione positiva. Aladin e Cenerentola, l'amore contro le convenzioni sociali. Al centro della narrazione troviamo Aladin, un giovane di origine umili che vive con sua madre in una città del Medio Oriente. Aladin è descritto come un ragazzo scapestrato che passa le sue giornate a bighellonare e sognare di diventare ricco. La sua vita cambia drammaticamente quando viene avvicinato da un mago malvagio che si presenta come il fratello defunto di suo padre. Il mago convince Aladin ad aiutarlo a recuperare una lampada magica da una caverna incantata, promettendogli ricchezza in cambio. La caverna però è piena di tesori scintillanti, ma la vera ricchezza è la lampada magica che Aladin riesce a trovare. Quando il mago tenta di tradirlo, Aladin rimane intrappolato nella caverna e, in preda alla disperazione, sfrega accidentalmente la lampada, liberando un potente genio. Il genio, creato per essere stato liberato, promette di esaudire tre desideri di Aladin. Uno dei temi principali nella fiabba di Aladin è l'amore tra Aladin, un giovane povero e senza titolo, e la principessa Jasmine, figlia del sultano. Questa relazione mette in luce le rigide barriere sociali che esistono nel loro mondo. La società in cui vivono Aladin e Jasmine è fortemente gerarchica, con chiari confini tra le diverse classi sociali. Le principesse sono destinate a sposarsi con nobili o principi, non con giovani di umili origini come Aladin. Nella storia, Aladin si innamora di Jasmine al primo sguardo, tuttavia è consapevole della distanza che li separa. Questo però non gli impedisce di sognare di conquistarla, ma lo costringe a confrontarsi con la dura realtà delle differenze di classe. All'inizio, Aladin si sente inadeguato e impossibilitato a raggiungere il suo sogno a causa del suo basso status sociale. Aladin d'ora è ancora ancora il suo sogno, il suo sogno di affinare il suo sogno di affinare il suo sogno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.